Ma come mi vesto a Natale con le Cindy Girls, le mitiche Cindy Girls Ed eccole qui le mitiche Cindy Girls con Ela Bortoli, Cindy Starrit 64, Rosa Vitale, La Stefi Capricciosa, Cristiana Carpentieri e naturalmente anch'io Laura Gioia E chissà loro come si vestiranno a Natale, il loro link, andate a sbirciare, è qua sotto Intanto andate a scoprire come mi vesto io a Natale, guardate il video, ciao e buona visione, ciao ciao Outfit, outfit di Natale Outfit di Natale Mi preparo Musica Ecco come mi vesto io a Natale Ma girando sul web ho trovato delle cosine interessanti da consigliarvi, andiamo a vederle Ho trovato questo vestitino con le stampe, con i babbi Natale di lana corto, guardate quanto è carino È veramente molto carino, questo andrebbe bene per il Natale Poi c'è anche questo sul rosso con le renne e anche questo è al ginocchio, molto caldo e molto bello Poi c'è anche questo con la gonna e il maglioncino di lana bianco, anche questo è stupendo Poi se qualcuna vuole usare anche questo abito rosso che è piuttosto sexy ed elegante, è bellissimo anche questo Un altro vestito molto bello che a me piace molto è questo qui, sull'argentato Guardate che bello che è, è veramente molto molto carino E rimane, praticamente rimane in altri colori perché c'è anche il dorato C'è il rosso C'è questo dorato un po' più scuro Allora questo è più chiaro e questo è più scuro E poi c'è verde Sono tutti e tre, sono tutti e tre vestiti molto molto belli Eh sì, è un po' scollato, però anche a Natale si può usare Guardate anche questo tubino, fatto in questo modo È particolare e carino Con il Babo Natale disegnato e anche questo è in vari colori C'è questo viola, c'è questo grigio Questo qui è nero col Babo Natale bianco E c'è anche sul blu Guardate che carino Tanto quest'anno dobbiamo stare in casa E questi stivaletti che sono sul rosso con la pellicetta bianca E neri sempre con la pellicetta bianca Ragazzi sono carinissimi Guardate Bellissimi E con gli stivaletti abbiamo finito l'outfit natalizio Mi raccomando iscrivetevi al mio canale Vi ringrazio di essere arrivati fino qua Un like se vi è piaciuto il video Ciao Ciao E al prossimo video Ciao Ciao Ciao!